Buongiorno a tutte bellissime, video flash stamattina per ricordarvi l'evento di sabato 9 novembre con la nostra visaggista di Lego. Avrete a disposizione 30 minuti di puro relax per farvi consigliare al meglio e sono rimasti soltanto 3 posti, uno alle 1, uno alle 2 e mezza e uno alle 4, quindi ore 13, ore 14 e 30 e ore 16. Prenotatevi, chiamatemi così prendiamo appuntamento, in più quel giorno solo per la giornata evento ci saranno promozioni ogni due prodotti il terzo a metà prezzo. Nella promozione si comprende tutto il make up e venite con me vi faccio vedere anche tutta la linea che partecipa alla promozione, tutti i rossetti cambia colori, le terre, il trattamento volumizzante, il siero viso schiarente, ovviamente il magico burro struccante e i sieri per il viso. Vi aspetto, mi raccomando non perdete questa magnifica occasione.